E' morto in una clinica svizzera con suicidio assistito, romano, 82 anni di origini toscane e residente nel milanese, accompagnato anche lui oltre confine da Marco Cappato. Ex giornalista e pubblicitario, era affetto da parkinsonismo atipico dal 2020, malattia che lo aveva costretto a letto tra forti dolori in una condizione irreversibile che gli impediva di fare qualsiasi cosa in autonomia. A dare notizia del decesso è stata la figlia dell'82enne, Francesca, che vive in California. Noi abbiamo dovuto fare questo viaggio per venire in Svizzera perché lui potesse avere questa scelta e io spero che in Italia presto sia possibile per le persone di poter fare questa stessa scelta a casa propria e di morire a casa propria circondati dalle persone care. Prima di lei era stata la moglie dell'82enne a lanciare il suo appello. Nel nostro paese non esiste un quadro legislativo chiaro sulla scelta del fine vita che è un diritto fondamentale dell'uomo. Cappato, tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, questo sabato si autodenuncerà ancora una volta a Milano e rischia nuovamente fino a 12 anni di carcere. Aveva già fatto la stessa cosa nel 2017 presentandosi alla procura di massa assieme a Mina Welby dopo aver aiutato a morire in Svizzera Davide Trentini, il 53enne toscano malato di sclerosi multipla. Dopo l'assoluzione in primo grado nel 2020, nella primavera dello scorso anno, i due sono stati assolti anche in appello dalla Corte d'Assise di Massa.